Io ho sentito dire molti adesso che fanno dei moniti verso il mercato, attenzione perché chi esce dalla Lega poi non rientrerà mai più, stai attento Roberto eccetera. Ecco io credo che un uomo libero debba seguire proprio il suo cuore. Le orecchie di Roberto Marcato in questa settimana staranno fischiando a più non posso. Il suo nome rimbalza di frase in frase, di chat in chat, mentre il diretto interessato scansa declarazioni ufficiali e affida a Facebook frasi sibilline. Ma già da sabato ha fatto intendere che si sta guardando intorno. C'è chi lo vorrebbe creatore di una nuova Liga Veneta staccata dal carroccio salviniano, un soggetto che potrebbe portare con sé non pochi leghisti delusi. E poi ci sono le sirene indipendentiste. Roberto si è sempre dichiarato indipendentista. È innanzitutto un amico perché nei momenti dove ho avuto bisogno di chiamarlo anche per la sua empatia verso il popolo veneto è sempre stato disponibilissimo. Credo che Roberto sia diventato in qualche modo così invidiato da qualcuno. I nomi magari li mettete voi. Qualcuno ha iniziato a vedere in lui un avversario. Per questa sua empatia con il popolo, per questo suo linguaggio se vogliamo molto basico, molto popolare, che però lo fa diventare un personaggio del popolo veneto amato dai Veneti anche per i voti che lui riesce a portare a casa. Io credo che nell'anima di Roberto ci sia sempre questa voglia di Veneto. Se quello del segretario di indipendenza Veneta non è un endorsement, poco ci manca. Io credo che Marcato sia un uomo che può fare la differenza adesso, che può incardinare così anche i Veneti a seguire una strada diversa dalla politica italiana. Perché oggi il Veneto ha bisogno di un partito territoriale che si occupi esclusivamente dei problemi del Veneto. Quanto è alta la percentuale di un clamoroso passaggio lo sa soltanto Marcato. Certo pare difficile possa concretizzarsi. Troppo alto i rischi di un salto nel vuoto. Ma indipendenza Veneta è convinta che sia l'unica strada per smarcarsi dalla Lega salviniana. Questo leone marciano che nasce nel cuore di ogni Veneto indipendentista come io e tanti altri non c'è nella Lega di Salvini se vogliamo essere sinceri. Poi se vogliamo giocare allora va bene tutto. Però la coerenza innanzitutto in politica per noi è un valore assoluto. Chi può portare avanti un'autonomia, un'autonomia forte non questa, uno statuto speciale e chissà mai anche l'indipendenza come lo spieghiamo noi, deve farlo perché lo sente dentro. A prescindere dal potere politico che si ha in questo momento. Altrimenti la politica diventa una specie di merchandising, di mercimonio.